La cooperativa Filocrate accoglierà gli allievi del progetto Tempesta di Sorrisi nella sua struttura di Vietnea, che è un'antica struttura degli anni 30, che ha un grandissimo cortile e un giardino. Infatti le attività che svolgeremo saranno un orto didattico nel giardino, dove gli allievi impareranno a distinguere gli ortaggi principali, le piante da seme, da frutto, bulbo, radice, tuberi. Oggi analizzeremo insieme tutti gli aspetti nutrizionali e accoglieremo anche un laboratorio di cucina. Nel ristorante, che è attrezzatissimo e professionale come quello di Masterchef, impareremo a fare le crepe, i biscotti, le torte, le marmellate biologiche. Infine, con noi, gli allievi verranno in gita al Parco dell'Etna, presso delle fattorie didattiche, dove impareremo come si fa l'olio biologico, come si fanno le marmellate biologiche, come vengono coltivate le piante da ortaggio, direttamente lì. Creeremo anche noi il pane con le farine biologiche.